BUCINE Anche la bucine va impostata tenendo la moto piuttosto centrale rispetto alla pista nella staccata che la precede. Si inizia a frenare abbondantemente dopo il cartello dei 100 metri e si scala fino alla terza marcia. L'ingresso della bucine deve essere veloce, spesso si frena molto più del necessario in questa staccata. Si lascia scorrere bene la moto nel curvone, dove nella parte centrale ci si tiene a circa un metro e mezzo, due metri, dal cordolo interno. Appena con lo sguardo si trova l'uscita della curva, si inizia ad aprire la manopola del gas per proiettarsi sul cordolo esterno in uscita, dove prima della fine dello stesso bisogna aver inserito la quarta marcia per lanciarsi sul rettilineo principale, verso il traguardo.